Tragedia nel mondo del cinema italiano. La scomparsa di Asani Schapi sconvolge tutti. Benvenuti a Rivelazioni Fresche. Prima di immergerci nelle notizie di oggi, vi chiediamo un piccolo favore. Mettete un mi piace a questo video e iscrivetevi al nostro canale. Il vostro supporto è per noi di immensa importanza. Grazie di cuore. Oggi, una triste notizia ha sconvolto il mondo del cinema e della televisione italiana. Pochi minuti fa è arrivata la terribile notizia della scomparsa di Asani Schapi, venuto a mancare all'età di soli 51 anni. L'annuncio è stato dato dall'attore Edoardo Leo, che aveva recentemente collaborato con lui. Schapi è deceduto diversi giorni fa nella sua terra d'origine, Mombasa, in Kenya. Asani Schapi era nato il 15 aprile 1972 a Mombasa. Sin da giovane aveva mostrato una forte passione per la recitazione, trasferendosi da prima in l'Inghilterra per studiare presso la Royal Academy of Dramatic Art, RADA. La sua carriera internazionale lo ha portato a lavorare in diverse nazioni, inclusi gli Stati Uniti, dove ha partecipato a numerose produzioni teatrali e cinematografiche. Nel Regno Unito ha recitato in spettacoli teatrali di grande prestigio e ha avuto ruoli in alcune serie televisive britanniche di successo. Il suo talento poliedrico lo ha portato a trasferirsi in Italia, dove è diventato un volto noto del cinema e della televisione. Per il pubblico italiano è particolarmente noto per i suoi ruoli in commedie di successo, come Il nostro matrimonio è in crisi e Lezioni di cioccolato. In televisione è ricordato per il ruolo di Hussein nella serie Intelligence, servizi ansegreti di Mediaset. Schapi era anche un attore teatrale acclamato, avendo partecipato a numerosi spettacoli in Italia e all'estero. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale a pochi mesi fa, quando ha recitato accanto a Edoardo Leo in Il Clandestino. Edoardo Leo ha condiviso il suo dolore con un post sui social, scrivendo «Ciao socio» e aggiungendo che la notizia, giunta con molti giorni di ritardo, lo ha profondamente sconvolto. Ancora non riesce a crederci. Oltre alla sua carriera artistica, Asani Schapi era impegnato in diverse cause sociali e umanitarie, sostenendo attivamente organizzazioni che si occupano di istruzione e diritti umani in Africa. Era un uomo di grande cuore e generosità, amato e rispettato da colleghi e fan in tutto il mondo. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore!